Il maggio parteciperà alla manifestazione della corrida sul Rai 1, cosa farà nello specifico? La spagnola, con due vallette. In che cosa consiste? Una cosa, uno spettacolo, bravo, l'ho fatto tutte le parti, tutte premiate. Sono stato a Leggi, sono stato a Barcellona. A Leggi ho fatto un'altra cosa, ho fatto il vecchietto. E su Rai 1 cosa farà nello specifico? Quale sarà la sua performance? In cosa consisterà? La spagnola. E per chi non la conosce come la possiamo spiegare? Come? La vedono alla televisione perché la danno a diretta. Quindi la sorpresa poi mercoledì non la svegliamo. Ovviamente l'invito è quello di votare per lei. A Brindisi, la parte di Brindisi l'ho portato da tutte le parti, fino a Pasano. Va bene. Perché poi aspetto... Presento Squinzano, presento la Puglia, presento Trepuzzi, presento tutta l'Italia. È una cosa bella, no? Poi le dico che il mondo si finisce all'Europa. Sono il paese dei Nicolai Liani, a 6 km del Guadalbano, a 8 km c'è da Mimo Modugno. Allora, qui c'è? In bocca al lupo allora. Voi mi dico, c'è qualcosa che mi fa ci bella? Eh, facile non me la foto. Voi mi dico.